Bella gente Briful People, bentornati sul canale. Oggi su LEGO Fortnite andiamo a vedere questa nuova guida che riguarderà il bioma innevato. L'ultimo bioma, il più difficile che finora abbiamo in gioco, quindi cercheremo di vedere tutte le risorse che contiene, andremo a vedere cosa troviamo nelle gallerie e cosa ci permetterà di costruire con le risorse che possiamo raccogliere in questa zona. Sicuramente è il bioma più difficile da affrontare anche perché è quello finale, quello diciamo da endgame, anche se come vi ho detto in uno dei video precedenti molto probabilmente a breve verrà aggiunto un nuovo bioma o comunque verranno aggiunti nuovi materiali, nuove armi con un update di metà season, quindi probabilmente a breve avremo delle novità anche su LEGO Fortnite. Prima di andare a vedere questa guida vi ricordo che potete iscrivervi al canale se il video vi piace e potete anche lasciare naturalmente un bel pollicione e vi controllare in descrizione dove troverete il link di Twitch e di TikTok ma anche il link del server Discord dove unirvi e discutere con tutti gli utenti tutti i giochi che porto sul canale. Ma ora passiamo a vedere questa guida al bioma innevato. Se state guardando questa guida è molto probabile che siete già arrivati ad esplorare al massimo sia il bioma delle praterie che quello del deserto, quindi volete iniziare ad esplorare e raccogliere risorse nell'ultimo bioma disponibile ovvero quello innevato. Questo sarà il più difficile, avremo bisogno di nuovi amuleti per poterci entrare, infatti grazie alle risorse raccolte nel bioma desertico potremo creare gli amuleti del fuoco interno che ci permetteranno di resistere alle basse temperature oltre comunque a darci anche un'armatura di 7 ognuno. Quindi una volta creati questi amuleti potremo andare ad esplorare la zona ghiacciata, la zona innevata dove al suo interno inizieremo a poter raccogliere le prime risorse sin da subito. Rispetto infatti alla zona del bioma delle praterie o della zona desertica qui avremo della sorta di abeti che una volta distrutti ci rilasceranno una risorsa chiamata freddo pino, questa sarà la risorsa composta da legno più rara che possiamo raccogliere, infatti sarà di colore viola ovvero epica. Se continuiamo ad esplorare la zona poi scopriremo che non solo avremo degli alberi differenti ma ci sarà anche una fauna differente, infatti incontreremo delle pecore che se una volta coccolate non ci rilasceranno come al solito il filo di lana, bensì ci lasceranno la lana pesante, quindi rispetto alla zona della prateria qui anche gli animali saranno differenti, anche le mucche pur non rilasciando delle risorse differenti rispetto alla loro compagine delle praterie avranno comunque un colore completamente differente. Avremo anche i soliti gusci da poter raccogliere come per gli altri biomi e in questo caso una volta che li avremo sconfitti loro ci rilasceranno dei gusci di ghiaccio. L'ultima risorsa poi a disposizione all'esterno delle gallerie della zona ghiacciata sarà la malachite, un minerale che ritroveremo molto raramente nelle valli ghiacciate ma lo troveremo risalendo qualche montagna, infatti se costruiamo magari qualche scalinata o qualche percorso che ci permetterà di raggiungere la sommità di una delle varie montagne che ci sono nella zona innevata, troveremo la malachite, questa è una risorsa piuttosto comune se sappiamo dove cercarla e sarà anche l'unico metallo che possiamo raccogliere senza dover entrare all'interno delle gallerie della zona innevata, infatti ora passiamo a vedere quali sono i materiali che possiamo raccogliere all'interno delle gallerie delle zone ghiacciate, dato che come per tutti i biomi all'interno delle gallerie troveremo oltre che dei nemici piuttosto impegnativi da affrontare anche le risorse un po' più rare e un po' più importanti che ci serviranno sia per costruire delle nuove armi che per costruire diversi progetti che richiedono il ferro. Prima di addentrarci in una galleria dobbiamo sapere che i nemici al suo interno sono piuttosto difficili da affrontare, gli stessi scheletri che incontriamo in giro per la mappa e quelli che incontriamo dentro le gallerie generalmente ci mettono un po' più in difficoltà, questo viene ancora più accentuato all'interno della galleria della zona innevata perché essendo equipaggiati con degli amuleti blu che ci riparano dal freddo non avremo comunque tutta questa armatura dalla nostra, quindi se volete andare sul sicuro potete prima di entrare all'interno delle gallerie andare a sconfiggere un brutto delle nevi per ricevere la sua squama, questo ci permetterà di creare un amuleto del fuoco interno epico, infatti appena lo sconfiggeremo e raccoglieremo la sua squama se abbiamo potenziato il banco da creazione fino a livello epico, questo ci sbloccherà la possibilità di costruire l'amuleto del fuoco interno epico. Vi ricordo che per poterlo costruire dovrete per forza aver sconfitto il brutto o quantomeno essere stati fortunati ed aver raccolto da qualche parte in qualche cassa una squama di brutto, altrimenti se non scoprite questa risorsa non potrete costruirlo nonostante il banco sia stato livellato al massimo, quindi se volete andare sul sicuro come stavamo dicendo potete costruirvi almeno un paio di amuleti del fuoco interno ed entrare all'interno delle gallerie con un po' più di armatura. Dentro le gallerie avremo poi diverse risorse, avremo la possibilità di raccogliere il ferro se siamo in possesso di un piccone epico e potremo andare a raccogliere anche lo zaffiro. Se vi ricordate nella zona desertica c'era una risorsa un po' più rara all'interno delle gallerie che era il rubino, qui la controparte sarà lo zaffiro. Mi pare di aver notato che all'interno delle gallerie innevate lo zaffiro sia un po' meno raro da trovare rispetto al rubino ma comunque è una risorsa preziosa che ci permetterà di andare a potenziare le nostre armi modificandole al banco delle essenze, quindi andare ad aumentare il danno delle armi piuttosto che la durevolezza dei nostri utensili. Ho fatto proprio un video a proposito l'altro giorno che spiega come andare a potenziare armi o utensili, quindi se non lo avete ancora visto o siete incerti su cosa potenziare e in che modo vi consiglio di andare a vederlo e lo potete trovare sul mio canale. Quindi le due risorse che troviamo all'interno delle gallerie innevate saranno ferro e zaffiro ma abbiamo anche un ulteriore nemico che ci dropperà qualcosa di nuovo e diverso rispetto ai loro simili che troviamo in giro per la mappa. Se vi ricordate sia nelle praterie che nella zona desertica che nella zona innevata che prima non avevo detto possiamo trovare diversi lupi che andranno a dropparci i diversi artigli, nella zona innevata visto che non ve l'ho detto avremo i lupi che ci daranno gli artigli artici come risorsa ma ci sarà anche un altro tipo di lupo che troveremo solo all'interno delle gallerie. Questo in particolare non ci dropperà un tipo di artiglio come tutti gli altri ma ci dropperà le ossa maledette. Queste sono una delle risorse più rare anche perché sconfiggerli è davvero tosto dato che sono comunque in gruppi di 3-4 all'interno delle gallerie quindi il mio consiglio è quello di costruirvi magari una scala e trovare una posizione piuttosto sicura dove non vi riescono a raggiungere e farli fuori con una balestra a colpi di frecce anche perché affrontarli faccia a faccia sarebbe piuttosto difficoltoso. Bene ragazzi questi erano tutti gli animali e tutte le risorse che possiamo raccogliere nella zona innevata fatemi sapere se manca qualcosa se ho dimenticato qualcosa magari lasciatelo scritto nei commenti. Io ho finito vi ricordo di iscrivervi al canale di lasciare un bel pollicione se il video vi è piaciuto e di controllare in descrizione dove troverete i link sia di twitch che di tiktok dove potermi seguire e anche il link del server discord dove con la community discutere tutti i giochi che porto sul canale. Io vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta col prossimo video ciao ciao